Non solo una parata, ma un susseguirsi di eventi di portata sociale, educativa e intrattenimento culturale, con l'obiettivo di lottare contro le discriminazioni riguardanti l'orientamento sessuale e l'identità di genere. E' questo FWG Pride, organizzato da 5 associazioni regionali, Arci Gay Friuli, Arci Lesbica Udine, Arci Gay Arcobaleno Trieste Gorizia, la Fenice FWG e Associazione Universitaria Iris. Sodalizi che nel novembre 2016 hanno unito le forze in un comitato, con l'intento non solo di organizzare il primo Pride regionale, ma anche di elaborare un manifesto politico in cui mettere a nero su bianco le stanze di tutti coloro che si trovano a essere discriminati. Così, Udine ospiterà nel pomeriggio del 10 giugno la parata, ma trattandosi di un evento che vuole essere una festa per tutti, la marcia di avvicinamento sarà lunga e trasversale. Presentazioni di libri, concerti, spettacoli, convegni e flash mob si svolgeranno nei quattro capoluoghi regionali, coinvolgendo varie realtà associative. Una scelta che rende merito a Udine, da sempre molto impegnata per i diritti civili e per la parità delle opportunità, tanto da essere stata la prima città in regione a trascrivere sul registro di stato civile, quando la legge non lo consentiva, il matrimonio celebrato all'estero tra due donne. L'unione tra Adele Palmeri e Ingrid Owen è stata trascritta dal sindaco Furio Onsel, pur incassando il parere contrario del prefetto, dando il via a tante polemiche prese di posizione. Lo strascico di polemiche ha accompagnato anche l'annuncio dell'FVG Pride. Il patrocinio concesso all'evento dall'Università di Udine ha provocato lo sdegno della Lega Nord, che ha espresso l'intenzione di portare la questione all'attenzione della Camera. Il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, da parte sua ha gelato gli organizzatori negando il patrocinio del Comune prima ancora di riceverne richiesta. Verso l'FVG o il Friuli Venezia Giulia Pride è l'argomento di questo nostro speciale del Tg. Ovviamente la notizia era conclamata di sapute, avevamo già dato ampio spazio alla questione e non parleremo solamente di quello solo della manifestazione, ma di quello che con questo genere di appuntamento si vuole anche ottenere. Chi organizza l'FVG Pride sostiene di volere più diritti. Ora per capire di che diritti si sta parlando, come si vogliono ottenere, dove siano considerate lacune, eccetera, abbiamo un parterre de rois questa sera come ospiti. Con me è Nacio Chitana Vergara che è il presidente di Arcigai Friuli, buonasera Nacio. Buonasera. Poi l'avvocato Emanuela Coman, buonasera avvocato, esperta di diritto di famiglia, anche con mi aiuta un ruolo nell'osservatorio nazionale. Del diritto di famiglia. Del diritto di famiglia. Si chiama un'associazione di familiaristi che opera a livello nazionale. Benissimo, benissimo. Poi abbiamo l'assessore Cinzia del Torre, il rappresentante del Comune di Udine, buonasera assessore. E il direttore della vita cattolica, Roberto Pensa. Buonasera direttore. Buonasera a tutti i tre spettatori. Ora, nota di merito per l'assessore del Torre, ora non per lasciargli il pelo, perché noi volevamo quello che è il parere dei politici sulla questione. Ovviamente il Comune di Udine parte in causa nell'organizzazione dell'evento, a suo modo. Abbiamo chiesto anche agli altri sindaci dei capologhi che cosa pensassero, sia della manifestazione di per sé, sia di quelle che sono le tematiche più calde per quello che riguarda l'ambiente, cioè le adozioni e le unioni che ci sono già state, ma che comunque, secondo una parte consistente di questa galassia, vorrebbero una rivisitazione. Ci ha risposto solamente il sindaco Romoli di Gorizia, del quale dopo manderemo il contributo. Invece si vede che sia Luca Ciriani che Roberto di Piazza o non hanno avuto tempo, o noi non siamo stati sufficientemente bravi a farcelo spiegare, o lavorano davvero troppo, insomma non abbiamo avuto purtroppo il loro contributo. Detto questo, tirate un po' le orecchie a chi non ci ha seguito a sufficienza, inizierei con la questione adozioni, avvocato. Abbiamo sentito, ho avuto notizia di questi ultimi giorni di due casi che hanno fatto discutere parecchio, che sono quello di Firenze e quello di Trento. Ora, se partiamo con la precisazione di che cosa è successo, perché se ne dicono tante, sembra che dall'oggi al domani le coppie dello stesso sesso possono adottare figli in Italia. Com'è invece la questione? Capisco che l'argomento è ampio, però facciamo subito le prime dovute precisazioni. Allora, l'argomento è ampio e io cercherò di renderlo, diciamo, in termini abbastanza semplici, anche perché queste due sentenze sono molto complesse e quindi anche spiegarle tecnicamente sarebbe impossibile. Però una cosa importante da dire è, sgombriamo il campo, sono due sentenze che disciplinano due casi specifici. Che cosa significa? Significa che non c'è una legge, non è stata introdotta una legge o è cambiata una legge che abbia consentito, o che consenta o possa consentire l'adozione a coppie, diciamo, gay o homo. A me piace molto omoaffettive, non so se mi piace molto di più come termine, ma non è quindi stato possibile, non è possibile attualmente in Italia normalmente chiedere l'adozione da parte di coppie dello stesso sesso, anche se unite per esempio mediante l'unione civile, che è una legge che ha disciplinato una forma di matrimonio, perché sarebbe un discorso molto complesso. Comunque, insomma, la legge del 2015 ha introdotto questa possibilità legittima e richiesta da molti anni. Brevissimamente, la sentenza di Trento e la sentenza di Firenze riconoscono la possibilità di trascrivere, quindi di rendere efficace sostanzialmente in Italia, dei provvedimenti che però sono stati assunti all'estero. Quindi sono sempre situazioni estere che poi vengono, diciamo, validate, adesso non con termine giuridico, però trascritte qui da noi. La cosa interessante però di queste due sentenze, che quindi non creano una legge, però come tutte le sentenze, anche in Italia, creano dei precedenti e chiariamo anche che non sono le uniche, perché c'è tutto un movimento anteriore che parte dal 2009-2010 ed entrambe queste sentenze fanno riferimento ad una sentenza della Cassazione del 2013, che ha dato dei paletti, che brevemente riassumo. Che quella è la funzione della Cassazione, no? Esattamente, dare i principi di diritto a cui ispirarsi. Una cosa che non dobbiamo mai dimenticare che il diritto italiano è ormai anche europeizzato. Cioè noi viviamo in un contesto europeo, quindi è vero che abbiamo le nostre leggi, ma dobbiamo anche rispettare. A che cosa hanno fatto riferimento queste due sentenze? Grosso modo alla Convenzione dell'AIA, alla Convenzione di Strasburgo, alla Convenzione di New York. Che sono accordi internazionali fra Stati, giusto? Ai quali bisogna in qualche modo sottostare. Non solo dobbiamo sottostare, ma che sono state introdotte e ratificate in Italia e quindi sono diventate leggi in Italia e sono in vigore. Però il problema, diciamo, per quanto riguarda Trento riguardava la fecondazione, diciamo, assistita, cosiddetto, all'estero e in Italia è esclusa per le coppie, diciamo, dello stesso sesso. Mentre il problema di Firenze era diverso. Lì c'era la possibilità che venisse trascritto in Italia un provvedimento di adozione di un bambino, di coppia, di una coppia di stranieri, che avevano vissuto però all'estero. E qual è stata, diciamo, la soluzione? Io la dico in maniera molto semplice. Il fatto è che si è fatto riferimento a questa Convenzione e si è detto, è vero che in Italia ci sono delle leggi che possono essere anche contrarie, diciamo, all'adozione. Ma noi andiamo oltre queste leggi e applichiamo la Convenzione che fa riferimento ad un concetto di famiglia diverso, quindi a prescindere dal sesso, dall'unione, dal matrimonio, dalla separazione, perché poi è molto più complessa, diciamo, la legislazione in termini di adozione anche per le coppie eterosessuali in Italia. E focalizziamo l'attenzione... Si, non è semplice nemmeno per le coppie etero. Assolutamente, assolutamente. E focalizziamo assolutamente l'attenzione sul bambino, no? Quindi da un certo punto di vista non stiamo neanche parlando, chiariamo, del diritto degli adulti, ma del diritto del bambino a continuare a stare con due genitori, che poi fossero due uomini, due donne, un uomo e una donna, in base a queste sentenze non era rilevante. E comunque, e poi concludo, non era contraria all'ordine pubblico. E questa è una cosa molto importante. Cosa significa, avvocato? L'ordine pubblico è quell'insieme di principi fondamentali che stanno alla base, diciamo, del nostro ordinamento. Sostanzialmente sono quelli ratificati dalla nostra Costituzione. Ma, diciamo, in base a queste due sentenze, non si è ravvisata alcuna norma fondamentale che fosse contraria alla nostra Costituzione e comunque alla Convenzione dell'AIA, che è comunque una legge anche nello Stato italiano. Per dirla in termini molto semplici, si è dato più valore al concetto di famiglia, di inserimento di un minore nella famiglia, partendo quindi dal presupposto che la famiglia non è solo quella ratificata dal matrimonio, dalla convivenza, dall'unione civile, ma è proprio un centro di affetti e di stabilità, questo sì, che corrisponde all'interesse di un bambino, a continuare a vivere con questi genitori. Certo, aveva fatto riferimento, l'avvocato, a quello che è l'ambiente, diciamo, nel quale siamo inseriti come Italia, cioè che è quello dell'Unione Europea, e se mi aiuta la regia con una cartina che ho visto pubblicata in questi giorni sul Corriere della Sera, proprio fa riferimento a tutta quella che è, diciamo, la disciplina legislativa per quello che riguarda nozze gay, così vengono definite dal Corriere della Sera, unioni civili, paesi in cui esiste la stepchild adoption, che è un altro argomento di discussione sempre caldo, insomma, anche durante quella che era l'elaborazione delle leggi sulle unioni civili, e paesi che concedono l'adozione congiunta alle coppie gay. Ora vediamo che il verde è rappresentato da quelle che sono le nozze gay e il, diciamo, il cursore rosso, insomma, come vogliamo chiamarlo, ecco, disciplina l'adozione congiunta, e quello giallo invece la stepchild adoption. È questa la linea di tendenza, mi chiedo, no? O meglio, la tendenza è quella verso il verde, verso come funziona, no? Dobbiamo fare i conti con questo tipo di situazione? Ci condiziona? Io credo che la tendenza sia questa, ma direi che il grande spartiacco in Italia è stato dato dalla legge del 2015 sulle unioni civili, perché, benché appunto le unioni civili non siano, diciamo, equiparate al matrimonio civile tra coppie interesse sessuali, sicuramente hanno introdotto dei veri e propri, ecco, qui sì, diritti dei soggetti in te e delle persone interessate. E quindi questa è la conseguenza, ed è una discussione, se lei mi permette, che coinvolge non solo una questione meramente tecnico-giuridica, ma anche i valori che ciascuno di noi porta in sé, no? Io lo dico senza problemi, io sono stata educata nei valori, diciamo, cattolici, appartengo a una famiglia cattolica, però un conto è quello che riguarda la mia sfera di valori personali e poi, parlando da avvocato che lavora all'interno di un ordinamento, penso che invece i diritti che dobbiamo rispettare sono i diritti di tutti quelli che fanno parte di questa comunità. Per dirle in parole povere, uno può essere cattolico, musulmano, buddista e appartenere ad altre religioni ed è giusto rispettare i loro valori, come io, voglio chiarire, voglio chiarire, anche io desidero che vengano rispettati i miei valori, però facciamo parte di una comunità e allora qual è il problema? Ricercare quei minimi essenziali diritti fondamentali che in qualche modo creano condivisione, pur nella diversità delle varie, diciamo, valori religiosi, ecco. Direttore, però qualcuno può biettare, è già stato riconosciuto tanto rispetto al poco che c'era prima, le coppie dello stesso sesso, no? Che cosa si vuole ancora, no? Che cosa si vuole subito, no? Cosa ne pensa lei? Ma penso, però, la questione fondamentale che dobbiamo affrontare anche in un sistema giuridico, che è vero che esistono i diritti individuali, sì, però ci sono diversi diritti che alle volte confliggono e che vanno mediati. Ci sono delle grandi questioni. Step child adoption, se noi guardiamo solo il problema dal punto di vista della coppia omogenitoriale, uno dice, ma perché negare questo diritto? Però dobbiamo considerare anche le necessità dei soggetti deboli. Ricordiamo che per chi non lo sapesse, l'adozione, correggetemi se sbaglio, del figlio, del compagno, della compagna, no? Prima dei bambini. Non solo, però se io vado negli Stati Uniti, compro dei gametti e ottengo un bambino con la maternità surrogata, magari da una donna immigrata indiana, come succede molto spesso, che lo fa per necessità. E poi lo porto in Italia come figlio di uno dei due genitori e poi con la step child adoption poi faccio la mia famiglia in Italia. Questo a me, come cittadino, non è solo una questione di rispetto o di sensibilità. Cioè mi pare che stiamo cambiando i connotati della nostra civiltà. Parlo di civiltà giuridica, ma parlo anche dei valori fondamentali che sono alla base della convivenza civile. E questo problema, questo problema della genetica, del manipolare la vita, io penso che sarà il grandissimo problema delle democrazie nel ventunesimo secolo. Perché andiamo di fronte diciamo a delle nuove frontiere che mettono proprio anche, secondo me, in discussione anche il principio di parità di diritti tra le persone. Perché man mano che andiamo avanti nella ricerca, nella possibilità attraverso per esempio della genetica, di stabilire qual è il valore anche biologico di un certo DNA contenuto. È chiaro che, cioè già oggi se si vanno negli Stati Uniti ti propongono un book di donatori in cui la persona bianca, capelli biondi con gli occhi azzurri, ecco quel gamete costa più del doppio di una persona magari di un'altra provenienza etnica, con altre caratteristiche. I figli delle persone con una grande cultura valgono di più degli altri. Se andiamo avanti nel futuro, in cui possiamo fare un'analisi genetica, capire se uno per esempio ha tot probabilità di ammalarsi di cancro piuttosto che un altro, o se ha determinate caratteristiche che lo fanno diventare una persona molto abile nello sport, che cosa succederà? Non sono cose futuristiche perché ho letto che sabato verrà annunciato, che verrà aperto un servizio proprio qui a Udine in cui c'è una professionista che dice di poter analizzare il DNA delle persone per dirle che tipo di presupposizione hanno per ammalarsi di cancro. Quindi non siamo nel futuro, non siamo nel futuro. In questo senso io sulla vita cattolica, dopo la conferenza stampa del Great Pride, ho intitolato che secondo me si tratta di una festa triste, ma non voglio essere offensivo, chiaramente verso le persone. Poi replicherà il Presidente. politico, quello che vedo è tante persone considerate come atomi, cioè c'è sempre questa scelta individuale, l'autodeterminazione, la scelta individuale, però attenzione che siamo in una collettività, siamo in una comunità e le scelte individuali si devono contemperare, devono essere anche inserite nel contesto anche di valori che creano la nostra civilità e la nostra convivenza civile. Perché non basta dire io la penso diverso da te e ho diritto di affermare quello che io credo, ma questo va contemperato e abbiamo anche una storia, abbiamo anche delle radici antropologiche, abbiamo anche delle radici biologiche, e qui stanno cambiando le radici antropologiche del mondo, come le abbiamo sempre conosciuto. E quindi dobbiamo capire bene qual è la posta in gioco. Quindi io non ho niente del contrario al Grey Pride, perché c'è tutto il dito di incontrarsi. All'FVG Pride, ci tengo. Scusate, eccoci, pardon. FVG Pride, non ho niente del contrario, è giusto che ciascuno manifesti pubblicamente quello che crede, però sono profondamente contrario al manifesto politico e penso che sia un grande vero elettramento della nostra civiltà. E lo dico non da cattolico, lo dico da cittadino italiano. Naccio, si è sbagliato il direttore, l'ha interpretato in un modo in cui voi non pensate? Sì, anche questo discorso un po' delle Stati Uniti è un po' demagogico, più che altro perché per primo, partiamo dall'inizio perché ci sono tante precisazioni che vorrei fare. Ti dovevo dare un foglietto, no? No, no, mi ricordo, per fortuna, almeno ancora i neuroni sono a posto. La stepchild adoption è una cosa che già esiste in Italia, ma esiste soltanto per le persone eterosessuali. L'unico che stiamo chiedendo non è un diritto in più che non esiste, quello che stiamo chiedendo è l'estensione di un diritto per tutti i cittadini, anche inclusi noi, le persone LGBT. Secondo, negli Stati Uniti se vai e prendi una persona migrante, una persona migrante povera sicuramente e la sfrutti, è assolutamente illegale, tanto illegale come lo è qua in Italia. Negli Stati dove questa pratica è legalizzata, perciò se vai negli Stati Uniti e fai quello e ti beccano, ovviamente vai in galera e ovviamente paghi il tuo prezzo per aver commesso una cosa illegale. Negli Stati dove questo è legalizzato, dove si può fare negli Stati Uniti, tutte le parti vengono tutelate, perché appunto per quello c'è una legge che regolamenta questa pratica per evitare sfruttamenti da nessuna delle parti e tutelare a tutti. E che comunque dentro il manifesto politico non abbiamo fatto nessun tipo di riferimento alla GPA, perché infatti che non è in maternità surrogata, perché la maternità è un'altra cosa, è una cosa che tocca anche la parte affettiva. Questo stiamo parlando di GPA come gestazione per altri, perché è questo di cui si sta parlando, è un debattito che bisogna essere approfondito, infatti adesso in Italia si sta approfondendo, perciò abbiamo deciso di non toccarlo perché vogliamo tutti approfondire e parlare su questo e capire. Comunque in Italia è illegale fino adesso e non ne stiamo chiedendo che questo venga modificato, assolutamente. Dopo, secondo, un'altra parte, l'autodeterminazione è una parte importante anche della società e dovrebbe andare con i valori della società, di tutta la collettività. Perché quello che è successo fino a poco tempo fa, che le voci hanno iniziato, negli anni 70 soprattutto, hanno iniziato ad alzarsi, era che questa collettività era comandata dai valori dei pochi, che comandavano su tutti gli altri che non avevano questi valori e che venivano discriminati. Erano i bianchi sui neri, erano gli uomini sulle donne ed erano le persone eterosessuali sulle persone omosessuali, uguale le persone cisgender sulle persone transgender. E adesso cosa è successo? Che dalle anni 70 tutti abbiamo iniziato, grazie alla lotta femminista che è iniziata molto prima, tutti i collettivi abbiamo iniziato ad alzare la voce e a dire che giustamente se vogliamo vivere in una collettività dobbiamo tutti giocare con le stesse regole. Non possiamo avere, quando i diritti sono di pochi, sono privilegi, non sono diritti. E allora una società, non penso che nessuno di qua condividiamo i valori di avere una società in cui ci sono persone privilegiate. Anzi, vogliamo una società in cui esiste questa parità e tutti siamo allo stesso livello, con tutte le nostre differenze, perché è quello che noi vogliamo e noi rivendichiamo una società della differenza, che ovviamente tutti siamo diversi. Sono diversi gli uomini delle donne, gli omosessuali degli eterosessuali, e no, e anche gli omosessuali fra di loro, e anche gli eterosessuali fra di loro, e anche le donne fra di loro, e anche gli uomini fra di loro. Tutti siamo diversi, ma la diversità è quel valore che ci fa a tutti uguali, che tutti con le nostre diversità dobbiamo avere la parità dei diritti, ed è quella la società in cui crediamo, ed è quella che stiamo chiedendo. E non crediamo che vada per niente, anzi, con i valori soprattutto che si citano spesso, i valori cattolici e cristiani, soprattutto cristiani più che cattolici, i valori cattolici della nostra società, le radici cristiane della nostra società, stiamo chiedendo la stessa cosa. Stiamo chiedendo la stessa cosa. Stiamo chiedendo lo stesso rispetto per tutte le famiglie. Stiamo chiedendo lo stesso rispetto per tutti, stiamo chiedendo di essere tutti fratelli. E di essere tutti fratelli, ma per essere fratelli dobbiamo essere allo stesso livello. Non possiamo essere uno sopra gli altri, perché così non è quella società di cui parliamo, che condividiamo tutti e che è questa collettività. Adesso vuoi fare un ping pong, però mi pare che ci sia molta demagogia. Faccia faccia, direttore. Nel senso che intanto mi pare che non sia questa la storia italiana, perché noi abbiamo una Costituzione che nasce da un dramma di una guerra civile e mi pare che le donne e tutti gli orientamenti culturali e politici hanno partecipato alla stesura di questa Costituzione. Questi sono i valori, non nascono negli anni 70. La Costituzione fa una scelta, e qui bisogna andare a leggere i dibattiti nell'Assemblea Costituente, in cui c'erano personalità di grande rilievo, cattoliche non solo, c'era Giorgio Lapira, nel capitolo sulla famiglia, Giorgio Lapira, ma anche Palmino Togliatti, Mildegliotti, eccetera, diverse culture che si confrontano. E fanno una scelta, scrivono, nella Costituzione, la famiglia intesa come società naturale. E questo non è un caso, perché l'intervento di Giorgio Lapira ricorda come nel nazismo la dittatura cercò di strumentalizzare il concetto di famiglia, togliendo determinati giovani e cercando di creare una famiglia nazista, la gioventù italeriana. E proprio di fronte a questo, in Italia si è cercato di fare lo stesso ma in maniera molto più maccheronica, come facciamo noi di solito. Ma è proprio venendo da questo, si è detto la famiglia è ancorata ad un dato naturale. Non si può distruggere. Cosa è la natura per lei? Cosa è la famiglia naturale per lei? La natura, no? La natura processata attraverso la cultura. Uomo e donna genera, no? Il rapporto uomo e donna. Sì, ma quello viene specificato nella Costituzione? Perché la natura lascia uno spazio, una interpretazione, no? Che dipende del tipo di strumentalizzazione che si possa fare. I costituenti non... Se posso intervenire tra i due litiganti. Però sì, infatti, voglio dire una cosa anch'io. Assessore, dica a lei, anche giurista, quindi può dire la sua. No, sì, sono anche giurista, è vero, però volevo intervenire più per, diciamo, col ruolo politico che ho e stasera sono l'unica ad avere un ruolo politico. Osservando intanto una cosa, che in Italia la politica e quindi la norma arriva a buona ultima dopo che la giurisprudenza ha dovuto metterci una pezza. E queste sono le sentenze di cui abbiamo parlato prima. Ma questo è un classico italiano, tant'è che il grafico europeo che prima è stata la piantina, che prima è stata mostrata, che non si sono stati redattori, ecco questa, due anni fa aveva il bianco sul nostro paese, perché non c'era nessuna norma rispetto all'unione civile. Allora, la questione sta su un altro piano, non si può essere d'accordo o non essere d'accordo, ma bisogna normare. Il problema non è essere o non essere d'accordo, il problema è che questi temi ci sono e vanno normati, vanno regolamentati, e la politica non può far finta che non ci siano, vanno normati. Però c'è anche chi si chiede se tutto debba essere normato, no? Se tutto quello che esiste, ed esistono queste cose, se non le normi, deve intervenire la giurisprudenza, ma la giurisprudenza interviene caso per caso, ma non è una soluzione, prima perché non siamo in common law, secondo perché non è una soluzione, la politica deve prendersi le sue responsabilità, di normare quelli che sono i fatti della vita, cioè le cose che accadono. E le famiglie omogenitoriali esistono, le figli naturali di coppie omogenitoriali, di coppie omosessuali esistono e vivono di solito col compagno o la compagna del genitore naturale. Questo va normato perché quando dovesse mancare quel genitore naturale a quel bambino cosa succede? Perché quando c'è una coppia, come nel caso della trascrizione del matrimonio che è trascritto il nostro sindaco, delle due donne, una italiana di origine frulana, quella coppia lì si è conosciuta all'estero, è sposata all'estero, vive all'estero, ma quella donna è italiana, ha diritto ad avere una risposta dal suo paese rispetto a qual è la sua situazione. Con la coppia le ha adottate due bambini, due bambini che non sono figli naturali di nessuna delle due, ma le ha adottate in un paese e dopo gli viene consentito. Quando questi scendono a ronchi, cosa succede? Sono figli di quelle due lì oppure no? Ma la coppia non è tutelare, se vogliamo, tutelare queste due signore che comunque sono adulte, anche loro, ma principalmente tutelare i bambini. Di nuovo, quando questi scendono dall'area a ronchi, cosa gli succede a questi due bambini? Hanno due genitori, ancorché due donne, oppure no? Questa cosa va normata. Avvocato, sì, come no? Mi riaggancio proprio alle cose che hanno detto tutti gli altri tre, diciamo, componenti di questo gruppo, è un problema talmente delicato perché per la prima volta, penso anche nella storia, ci troviamo a dover affrontare, mi riferisco per esempio alla maternità surrogata, e giustamente lui ha toccato un tasto delicatissimo e io apprezzo molto questa sensibilità perché sono problemi che vanno anche al di là del desiderio, metto tra virgolette, egoistico di avere un figlio, perché effettivamente tutti noi ci dobbiamo interrogare, stiamo manipolando la natura, è giusto o non è giusto? E quindi sono da un certo punto di vista d'accordo col dottore che dobbiamo riflettere tutti assieme su quello che può essere il futuro anche dell'umanità, insomma, dell'assettamento. A parte il fatto che ho la convinzione che la natura abbia in sé una forma di intelligenza per cui in qualche modo riesca, ma guardi, adesso faccio una battuta, anni fa fecero un'indagine in Inghilterra e venne fuori che dal punto di vista biologico due figli su cinque non erano figli del padre legittimo, allora tutti gridarono allo scandalo, no? Ma in realtà se voi cercate di riflettere in maniera più profonda, forse la natura cerca delle vie, diciamo, alternative perché in fondo il nostro fine è la procreazione, quella di continuare a vivere, questo sul piano così è. Però qual è il problema? Che come dice la dottoressa, dobbiamo, dobbiamo, non possiamo non cercare un patrimonio, chiamiamo di valori comuni, di regole comune che ci consentano a tutti quanti di esprimere se stessi e di non entrare in conflitto continuamente. Nessuno più delle donne può capire la discriminazione. Allora, lei ha perfettamente ragione, la Costituzione è meravigliosa perché la nostra Costituzione aveva in sé già nel 48, è vero, le relazioni, tutte le abbiamo studiate, eccetera, però si è interpretata anche in una certa maniera a grandi aperture, grandi aperture. E chi più delle donne è stata discriminata? Quando io penso che nel 64 hanno abolito il delitto di adulterio, che le donne venivano incarcerate quando tradivano, cioè il mondo quindi si interroga e va avanti continuamente. Fermo restando, quello che dicevo prima, i valori poi individuali delle persone devono rispettati, cioè io non mi devo sentire criticata o perseguitata perché credo per esempio in valori cristiani, ma non mi sento neppure di togliere a chi non la pensa come me, gli stessi diritti essenziali ovviamente, stiamo parlando di diritti fondamentali, la famiglia, l'affetto, i figli. E poi un'ultimissima cosa, guardate che in quelle sentenze si dice proprio questo, cioè a torto o a ragione, e vi do questa palla diciamo per ragionarci, nelle sentenze si dice, non c'è nessun studio scientifico che escluda il fatto che due bambini allevati da due uomini e due donne avranno dei problemi. Allora è anche provocatoria se vogliamo questa affermazione, però siamo in un momento di riflessione, però io dico che sui diritti essenziali, cioè pensiamo che prima del 2015 una coppia di persone nello stesso sesso non poteva diciamo assistere il compagno in ospedale, c'erano veramente delle carenche enormi a livello legislativo, no? Per cui è un argomento... In parte sono state sanate... Sanate, in parte sanate, altre ovviamente... Però si manifesta ancora, si chiede ancora, no? Quello che posso dire io provocatoriamente è non ci si accontenta di questo che è stato dato, si vuole qualcosa di più. Poi per quello che è quel qualcosa di più, faceva riferimento lei a dei doveri, uno dei nostri doveri è la pubblicità, che dobbiamo dare adesso e dopo ci rivediamo per la seconda parte della trasmissione. Eccoci di nuovo in studio. Prendiamo la palla al balzo, sempre relativamente alla questione adozioni, e vediamo che cosa ne pensano gli udinesi, ovviamente non gli udinesi come campione rappresentativa, però quelli che ha trovato per strada Monica Nardini per realizzare la sua Vox Populi. Sentiamo che cosa ne dicono. Io sono contraria. Io? Perché? Perché contraria? Perché, insomma, la coppia, i bambini devono avere la mamma e il papà, non queste due. È uguale, però. Lei invece è favorevole, signora? Sì, favorevole, ma perché i bambini, se si vogliono bene, si vogliono bene pure in due, due maschi. L'importante è che ci sia amore. Amore, la prima cosa è l'amore per i bambini, poi tutto il resto dico che è tutto secondo. Io sono favorevole. Perché favorevole? Perché è giusto. Meglio lasciare i bambini negli istituti? No. La roba fuori dal normale. Perché fuori dal normale? Perché fuori dal normale. E basta. Non dico altro perché potrei dire tante parolacce, però non servono perché la gente non capisce niente. Sinceramente no, sono dell'idea di una famiglia tradizionale, quindi della mamma e il papà, se possibile. Poi è ovvio che l'amore si spera ci sia sempre, quindi insomma ognuno ha la sua scelta. È abbastanza personale per chi deve succedere, ma bisogna vivere quel momento se è necessario, ma io questo l'ho superato da tanto tempo. E lascia aperta la possibilità quindi che all'interno di una coppia, se è unita, si possa crescere anche un bambino. Sì, quello è vero, ma ci sono troppe sanzioni, troppe leggi, troppe burocrazie, troppi interessi. E allora cosa vuole? La cosa va a finire sempre che ci rimette sempre chi lo desidera. L'ultima persona intervistata parlava di diversi livelli di sensibilità. Mi sembrava una sintesi abbastanza corretta, no? Cosa ne dici, Nacho? Sì, assolutamente. Ma io provocando potrei dire relativamente alla questione FVG Pride, entriamo nel caldo del tema. Quando ti chiesi alla conferenza stampa ma che cosa vogliono di più le persone di questa galassia LGBT, come si dice, con questo tipo di manifestazione, no? Perché c'è chi dice la carnevalata, eccetera, no? E si punta il dito su quel tipo di sviluppo che poi sappiamo che è residuale, perlomeno in Europa, no? Che cosa volete di più rispetto a quello che avete già ottenuto dopo una lunga battaglia con la legge del 2015? E tu mi rispondesti più diritti. Ma che cosa si vuole di più di questo, nel concreto? Parità. Quello che vogliamo e quello che abbiamo sempre voluto e per quello che lottiamo, no? E per quello che stiamo dando le nostre vite. E per avere parità, per non essere cittadini di serie B, se non essere cittadini come tutti gli altri. Perché contribuiamo alla società nella stessa maniera che fanno tutti gli altri, invece noi per una caratteristica che è il nostro orientamento sessuale o la nostra identità di genere, veniamo considerati meno. Perciò quello che chiediamo è parità, non vogliamo più diritti delle altre. Ovviamente vogliamo, e anche questo lo rispecchia anche la Costituzione, che tutte le barriere sociali che ci impediscono di poter, in questo caso sarebbe l'omofobia, la bifobia e la transfobia, tutte queste barriere sociali devono venire educate, devono venire, alla fine devono scomparire, no? Della società per vivere in una società paritaria, in una società in cui tutti abbiamo il nostro spazio, no? E questo si fa attraverso l'educazione, questo si fa attraverso il confronto e questo si fa anche riconoscendo questa parità. Se lo Stato non mi riconosce la stessa parità che a qualcun altro, che a lei, per esempio, è una ragione in più per essere discriminato, no? Come che legittimizza la discriminazione che io posso trovare nella strada. Ma questione di adozioni a parte, che è già un argomento, abbiamo capito, sensibile, no? È difficile da analizzare. Dove stanno tutte queste discriminazioni? Tutte queste discriminazioni partono da una base quotidiana, anche... Uno si chiede, guarda da casa e dice, ma tu puoi fare quello che ti pare, non vieni discriminato, dove ti ritiri discriminato? Dove vengo discriminato è quando sono, per esempio, a passeggiare col mio partner e devo sempre guardarmi intorno per sapere chi c'è, per evitare che mi... possano aggredirmi. Però questo non può essere normato, questo, no? Sì, può essere normato con una legge contro l'omofobia, in cui... perché non mi attaccano perché sia successo niente, se non mi attaccano perché mi identificano come omosessuale. Questo era capitato a Milano, nel tram, in un tram notturno, dove un uomo è stato individuato come omosessuale, che dopo non era neanche omosessuale, è stato preso a vote. E questo è semplicemente un'aggressione, un'aggressione che rimane lì. L'aggressione è presente come infatti specie nel nostro codice penale, no? Sì, l'aggressione, sì, ma è un'aggressione allo stesso livello di un'aggressione razzista. A te non ti hanno picchiato per una ragione X, per una problematica X, un conflitto che ci sia stato. A te ti hanno picchiato per la tua condizione. La tua condizione può essere essere nero, uguale che è violenza di genere. Non è violenza domestica. Alle donne li uccidono in casa, uccidono donne principalmente. La violenza domestica è quella che succede dentro la casa. La violenza contro le donne è violenza di genere. È per essere donna, perché questa società mette questi status diversi. E uguale ci capita a noi, omosessuali e transessuali, che veniamo aggrediti per questa condizione, per essere capiti o percepiti come questo. E non è un'aggressione come può succedere in qualsiasi altro contesto. Da qualsiasi individuo. E questo, se viene riconosciuto dallo Stato, lo stesso livello, l'aggravante per reati di homo B, transfobia, già è un passo avanti. Perché questo fa la gente, adesso se consideriamo e diciamo che a qualcuno le hanno picchiato per il colore della sua pelle, la gente è scandalizzata, si indegna assolutamente. Se capita a una copia omosessuale, tutti pensano cosa starebbero facendo. Semplicemente magari si sono presi della mano, semplicemente sono stati interpretati. Perché queste situazioni, penso che tutti gli omosessuali le abbiamo vissute nella nostra pelle. Ma direttore, c'è veramente questo sentimento discriminatorio? Lei lo percepisce in questi termini? Non mi pare che sia un fenomeno sociale dilagante. Cioè, c'è stato qualche caso, ma li contiamo un po', penso abbastanza, sulle punte delle dita in Italia. Per quello le persone si rispondono? Per evitarli? No, insomma, non credo. Cioè, ci sono tanti casi, purtroppo, oggi è forse il punto più facile essere aggredito se si è musulmano, magari se si porta il velo, aggredito verbalmente o altro, insomma. E di questo magari nessuno se ne preoccupa, perché anzi c'è una lotta politica su questo, no? E non credo che ci sia una discriminazione, forse come tutte le cose, magari, sai, negli anni 70, le prime persone di colore che sono comparse in Italia venivano guardate, però poi tutti, insomma, siamo diventati, ci siamo abituati nel senso buono. Cioè, è diventata una cosa che ha fatto parte della nostra vita quotidiana, insomma, no? E oggi nessuno si gira neanche dall'altra parte. E succederà così, forse anche per questo. Ma ancora succedono commenti, si sentono commenti in giro. Sì, ma si sentono commenti su tante cose. Allora, a l'ora di trovare un lavoro, come... Sì, sì, sì. Io lavoro da vent'anni, in realtà, diciamo, sensibile verso questi problemi, ma nessuno mi ha chiesto mai niente della mia vita sessuale, dei miei dettamenti sessuali. Sì, infatti. Insomma, non credo che sia un problema dilagante questo che nel mondo del lavoro ci siano discriminazioni per questo, non credo. Beh, quando io ogni volta, io lavoro a chiamata, sempre, lavoro per esempio con Voucher, che è tanto di attualità, e io ogni volta che ho un datore di lavoro nuovo, ovviamente devo pensare, perché non so che persona ho davanti, e il mio... la mia continuità lavorativa dipende di quella persona, e ogni volta che mi chiedono una semplice domanda come Ah, ma dove abiti? Ma abiti da solo. Io devo pensare con chi ho davanti per vedere se magari una persona con pregiudizi che può... e la legge le permette che mi possa mandare via per... no, la discriminazione, per esempio, in Friuli Venezia Giulia è stato fatto, ma comunque non esiste una legge che lo estenda a tutti gli ambiti, no? Che garantisca che questo non possa succedere, no? Però la... Quei voucher può essere mandato via a chiunque. Sì, assolutamente. Ma è molto diverso avere la paura, vivere con questa paura, e per quello magari non percepisce questa paura, io vivo con questa paura, e vivo con la paura uguale di essere aggredito, perché è potuto succedere solo due volte, e io lo posso nascondere, e questo non può nascondere una donna che porta l'IJAB, non lo può nascondere, un uomo che ha la pelle nera non può nasconderlo, io posso nasconderlo, io posso far finta di non essere omosessuale, nessuno mi va a chiedere sulla mia vita sessuale, e il problema è nel momento in cui questo viene fuori, perché viene fuori? Perché convivo con il mio partner, ed è parte della mia quotidianità, e nelle conversazioni normali, in qualsiasi ambito, può venire fuori. Però in questo caso, se mi permettete, la legge è sicuramente un elemento importante di educazione, anche futura, però deve essere in qualche modo sostenuta da una, non dico una rivoluzione culturale, ma da una maturità culturale, sociale, morale. Non basta la norma. No, non basta, perché la norma alle volte anticipa e alle volte, giustamente l'assessore diceva, arriva sempre in ritardo, alle volte anche anticipa, no? Per assurdo. Ma in questo specifico caso, credo che questo timore, questa paura, vada sconfitta con altri strumenti, forse cominciando proprio dall'inizio, anche noi nei confronti dei nostri figli, insomma, i genitori nei confronti dei nostri figli, per cui anche, diciamo, una certa battuta che magari gli eterosessuali non stanno, sì, tanto a considerare, invece forse dobbiamo fare anche un'autocritica, noi, nelle nostre famiglie, nei nostri figli, e insegnargli, non sto parlando solamente di omosessuali, ma proprio il rispetto dell'essere umano, il rispetto dell'essere umano e dei suoi diritti. Questa dovrebbe essere l'area dell'orientamento sessuale. E rispetto anche dei valori, però, ripeto, i valori sono importanti, vanno rispettati, però i valori di tutti, è cercare un piccolo punto, o grande punto di equilibrio. Però se mi permetti, gli organizzatori delle FWG Pride vogliono farci intendere meno di quello che chiedono, perché nel manifesto politico ci sono delle cose che io, francamente, anche faccio fatica a capire. Sì, chiariamo sì. Perché in questa manifestazione si chiede, per esempio, si chiede una diversa regolamentazione della prostituzione. Questo non riesco a capirlo, perché, insomma, da noi, per esempio, la prostituzione non è illegale, nel senso che questa è una legge che non vuole colpire chiaramente le donne, o che si prostituisce, ma intendeva colpire lo sfruttamento. E quindi c'è un rifiuto, ovviamente, di altri modelli, in cui c'è anche un sistema commerciale che poi ruota attorno a questo. e poi voglio dare una notizia che la legge 194 non serve a garantire il diritto all'aborto, ma la legge 194 è stata fatta per prevenire l'aborto. Quindi, quando si chiede del ruolo dei consultori, sono d'accordissimo sul potenziamento dei consultori, che però, il cui primo ruolo, però, è aiutare la donna a portare avanti la maternità. E poi torno sulla maternità surrogata, che continuo a chiamare maternità surrogata, perché io francamente non credo che sia possibile. E no, c'è. Di dentro non c'è. Eh no. Nel manifesto non c'è. Quando io chiedo di... Il manifesto non c'è. Non si parla. No, non c'è. È una cosa tattica, però, perché quando io chiedo... Non è tattica, non c'è. No, no, quando io chiedo di liberalizzare l'adozione, questo è fatto non a caso, perché è normale che si va in un paese estero, si ottiene quello che si vuole ottenere, poi si portano i figli e si vuole andare direttamente all'anagrafe e non avere nessun problema a legalizzare quello che invece è stato ottenuto in metodi che in Italia sarebbero illegali. Ma questa è una finzione giuridica. Sa che la GPA comunque è una rincorre... è una pratica alla quale rincorrino il 90% copie eterosessuali in questo momento, vero? Che non è una tematica esplicitamente del collettivo LGBT. Secondo me... No, e infatti è molto strumentalizzata, perché va bene per strumentalizzarle, parlare del sfruttamento delle donne è cosa che stiamo tutti in disaccordo assolutamente con lo sfruttamento delle donne. Infatti chiediamo la tutela delle donne, la regolamentazione delle cose, delle diverse istanze, anche della prostituzione, perché esistono le prostitute e non possiamo far finta e devono avere diritti come lavoratrici sessuali e tutele dello Stato. Perché? Perché quello che ci importa non è lottare contro lo sfruttamento delle donne. Non è tanto la discriminazione che insieme a tutti la con. Non è una questione nostra e infatti non è una questione solo nostra e infatti non è neanche proprio nostra a livello utenza in questo momento. Perciò non è neanche contemplata e ho spiegato perfettamente perché non è contemplata nel manifesto. Ma è quello che voglio dire per esempio sulla maternità assorogata io non penso che una donna possa fare una gestazione per altri. Perché tu dici la maternità è quando è un legame effettivo ma è possibile portare avanti una gravidanza senza installare un legame effettivo? Ci sono i casi ad esempio di sorelle madri che hanno portato ci sono ci sono ma non parliamo di favole infatti non parliamo di favole perché stiamo parlando di una percentuale veramente piccola che si ingrandisce come che è il caso grande lo ha detto lei che vogliamo andare a un paese a armare non fate confusione per favore perché altrimenti poi non se ne esce non raccontiamoci favole chiude il direttore e poi risponde i casi di sorelle sono lo 0,001 che sono quanti io non ho la statistica lei ce l'ha? ma assolutamente guarda ci sono la statistica italiana dove non si può fare io non ho la statistica perché si fa in Ucraina si fa in Repubblica Ceca si fa in Spagna in Ucraina le coppie omosessuali chi sono le donatrici in Spagna? chi sono le donatrici in Spagna? e in Spagna non si può fare è illegale come no? però scusate questo è il vostro la GTI è illegale scusate questo è il vostro manifesto però direttore no però ci sono sicuramente delle cose che magari io o lei o lei non condividiamo io dico sarebbe assurdo che io dicessi condivido tutto quello che chiedete io faccio un discorso di diritti essenziali dopodiché lui stesso e gli do atto diceva ci siamo posti i problemi proprio della maternità surrogata per cui sono assolutamente d'accordo con lei che magari lì ci saranno dentro molte cose che io e lei condividiamo c'è un modello di società nuovo c'è un modello che mette in discussione le radici dicevo antropologiche di come è stata la nostra società ma io credo che sia possibile vivere insieme pur rispettando i valori di tutti e cercando ripeto un filo comune perché la differenza non è facile però non è beh ma si dice che siamo passati da un secolo confessionale adesso stamattina lo chiamavano un secolo dell'ansia nel senso ed hanno ragione perché non abbiamo più quelle granitiche certezze perlomeno non tutta la società ha quelle granitiche certezze che forse avevamo 50 anni fa certo quanto meno se mi permettete questo manifesto ad esempio anche io sul tema della prostituzione non ho esattamente domani non posso condividere tutto ma la questione non è essere d'accordo su tutto quello che c'è lì dentro la questione è parlarne e già il fatto che stasera ci sta animando il dibattito in un tempo relativamente breve quello di una trasmissione dimostra che il tema è sentito ed è sentito sicuramente anche della cittadinanza quindi io apprezzo l'iniziativa dell'FFG Pride che pone delle questioni importanti molto sentite che si possono in parte condividere in parte no ma che se ne parli perché i temi questi temi esistono e sono problemi per tante persone dopodiché apprezzo anche un'altra questione posta prima da Nacio ed è questa il filone che lui illustrava molte delle questioni le rivendicazioni della comunità LGBT nascono da un da un meccanismo da un percorso che è stato inaugurato dal percorso femminista infatti una delle iniziative che c'è nel percorso che porta l'FFG Pride il 31 di marzo è che chiude Calendidonna è l'ultimo iniziativo Calendidonna è un incontro che avrà luogo ma la mattina all'università e il pomeriggio in sala Iace a Udine dai movimenti femministi e movimenti LGBT perché c'è un filone in questo senso e in quel manifesto ci sono anche sono poste anche questioni sui diritti delle donne perché quella costruzione di cui il direttore parlava prima è stata attuata con tanta lentezza nella pratica la legge sull'evento sessuale è del 96 ha 21 anni la costruzione ha più di 70 quindi voglio dire cioè il percorso è lungo ed è ancora lungo da attuare quel manifesto parla anche di dopo preferenze di genere ad esempio sulla quale sono d'accordissimo sulla prostruzione lo sono di meno ma se ne parli però cioè il refugee pride al di là del corteo della giornata del 10 giugno è apprezzabile è apprezzabile perché apre un dibattito importante in città e non è solo sulla città ma è diciamo sulla platea molto più ampia quindi lo trovo un percorso estremamente interessante si può non condividere in parte o per nulla va bene ma se ne parli dice l'assessore se ne parli noi questa sera ne abbiamo parlato abbiamo esaurito il nostro tempo purtroppo potremmo andare avanti però insomma vi lascio tornare alle vostre case grazie al direttore pensa per essere stato con noi grazie all'assessore del torre grazie a voi grazie avvocato comand e grazie a Nacio Quintana Vergara presidente di Arcigay Udine grazie a tutti voi quelli che ci avete seguito e appuntamento al prossimo speciale del Tg la prossima settimana non vi riveliamo ancora di che cosa si parlerà comunque l'argomento sarà molto interessante niente clip del sindaco Romoli che ci scuserà però davvero non abbiamo più tempo comunque grazie ancora a lui che ci ha dato attenzione ai microfoni di Francesca Santoro che pure lei mi perdonerà per non averlo manato in onda buonasera a tutti grazie a tutti grazie a tutti